Ed eccoci arrivati alla nostra foto del giorno, una foto che stimolerà la vostra vista, ma anche... Eccola qua, questo sullo sfondo vedete un meraviglioso Stradivari, non un violino qualsiasi, ma diciamocelo, il violino per Antonomaria. Il violino, proprio così, anche se un esperimento è della notizia di queste ore di una ricercatrice di scienze acustiche di Parigi, Claudia Frizza ha un po' ribaltato questo mito, come ha fatto suonare a musicisti bendati violini diversi, fra cui alcuni Stradivari, dinanzi a un pubblico ignaro dell'esperimento, un pubblico tra l'altro misto e composto da appassionati e persone del mestiere. L'esperimento è avvenuto in due sale da concerto, una a New York e una a Parigi in tempi diversi. Il risultato, vi chiederete, beh, allora nessuno è riuscito a stabilire quale fosse lo Stradivari, anzi sono stati apprezzati quasi di più i violini, diciamo, realizzati recentemente. Ma come mai? Per trovare una risposta a questa domanda invitiamo a raggiungerci qui Manrico Padovani, violinista, solista internazionale che più volte ha suonato proprio uno Stradivari. Buonasera, ci fa magari sentire qualcosa? Buonasera. Grazie. Allora, la prima domanda è, siamo di fronte a uno Stradivari o questo è un altro strumento? Che strumento è? Allora, questo non è uno Stradivari, ma a livello acustico è molto vicino. Questo è uno strumento francese del 1873, coppia precisa dell'unico Stradivari rimasto in tonso di nome Messia. In effetti questo Stradivari Messia, del quale ricorrevano i 300 anni dalla costruzione, è stato esposto a Cremona da settembre a dicembre dell'anno scorso e questo violino di Jean-Baptiste Villon era esposto giusto a fianco. Senta, lei ha suonato sia Stradivari che strumenti che non sono Stradivari. Si nota la differenza dal punto di vista del musicista? Allora, la differenza forse spesso si nota anche subito, ma se uno strumento, soprattutto moderno, che è stato appena terminato ed è stato messo a punto in un modo così da poter suonare il più voluminoso possibile, ecco, a quel punto lì la differenza magari non si nota. Il problema di questa messa a punto, così tirata, così spinta, è che a lunga durata perde il fiato. Quindi molto probabilmente, penso io, il risultato è anche dovuto a questo genere di... di messa a punto, che è come truccare una macchina talmente forte che dopo, diciamo, dopo 100 km questa macchina si rompe. Ecco, questo è il problema. Mentre gli Stradivari è vietato assolutamente toccare in quel modo lì perché loro hanno una natura propria, è come uno scrigno pieno di tesori e sono tutti da scoprire. Uno deve trovare la chiave giusta e poi si accorge qual è la vera resa di questi grandissimi strumenti. Senta, ma come si può stabilire un'estetica musicale, un'estetica del suono? Come facciamo a stabilire che questo è un suono migliore di un altro? Secondo me la risposta a questo genere di domanda è semplicemente da ricercare nella purezza del suono. Se un suono è puro, se un suono è un suono che porta ispirazione, se è un suono che arriva diretto al cuore, allora questo penso che sia la risposta. Grazie. Ultima, velocissima domanda. Noi ci siamo fatti incuriosire da questo tipo di ricerche. Non so se dal punto di vista del musicista sono interessanti, in qualche modo possono orientare la scelta o no. Questo tipo di ricerche scientifiche. Sono abbastanza simpatiche da leggere, ma per alcuni possono essere anche un motivo per essere orgogliosi del proprio strumento che nel 99,9% dei casi non è sicuramente uno stare di vari e quindi può essere orgoglioso di avere uno strumento che comunque suonerebbe bene come uno stare di vari. Il punto è che questo genere di prove, di discorsi, di ricerche è da sempre che viene fatto. Stiamo parlando di almeno 150 anni, viene rigorosamente fatto. Forse non a livello scientifico con tanto di macchinari, ma sicuramente a livello di quiz, cioè se loro avranno preferito questo o quello strumento. Il punto è vero che uno strumento di stare di vari, se suonato bene, conosciuto bene, è capace di arrivare a dei livelli che rimangono tutt'ora ineguagliati. Perfetto, io la ringrazio. Non so se posso chiederle di suonarci ancora qualcosa, magari la sigla della Champions League, visto che io dovrei dare i risultati della partita che è finita poco fa. Allora, siccome io sono di origine italiana e leggi sono anche un tifoso giuventino e visto che ha vinto la Juventus l'altra sera, allora suono volentieri il primo battuto di questa Champions League. Grazie. Che mi sembra faccia così. Bene, grazie ancora. Noi adesso andiamo a parlare appunto di Champions League. La Juventus ha vinto ieri sera. Chi dovrà incontrare a Cardiff il 3 giugno? Beh, ve lo diciamo subito. Il Real Madrid, che anche questa sera si è imposto contro l'Atletico per 2-1. Aveva vinto 2-0 nella scorsa semifinale. Quindi l'appuntamento è il 3 giugno a Cardiff. Come vi dicevo, un'ultima curiosità che ci sarà comunque un sorteggio. Forse non tutti lo sanno, ma solo per questioni amministrative e per stabilire chi verrà considerata la squadra di casa appunto. Credo che questa fosse l'ultima notizia. Alessandra, non so se c'è altro. In agenzia è solo arrivato che Donald Trump si è congratulato con il neopresidente sudcoreano. una notizia che avevamo dato ieri che avevamo per l'appunto detto che per il momento ieri non si era ancora espresso su questo tema. E con questo è tutto da parte nostra. Quindi grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo domani con Infonotte. Buonanotte.